Salve e benvenuti alla lezione numero 15 del corso di probabilità e statistica. La lezione di oggi si intitola distribuzioni continue perché oggi passeremo in rassegna alcune distribuzioni continue che sono quel nuovo tipo di distribuzione di probabilità che abbiamo introdotto nella lezione precedente. In particolare parleremo della distribuzione beta, parleremo della distribuzione esponenziale che è molto importante e sulla quale ritorneremo anche in lezioni successive, parleremo della distribuzione gamma e nell'ultima parte della lezione parleremo del concetto di funzione di ripartizione che non si riferisce solo alle distribuzioni continue ma che ha una valenza, una validità generale, vale per qualunque tipo di distribuzione. A questo proposito volevo avvertire che quando ho detto qualunque tipo di distribuzione che noi stiamo parlando qui di distribuzioni discrete e distribuzioni continue, non vorrei che pensaste perché sarebbe errato che tutte e sole le distribuzioni di probabilità sono o discrete o continue. Noi ci occuperemo di queste perché sono quelle più semplici, il nostro corso ha 20 ore, dobbiamo dire delle idee fondamentali in questo spazio, ma ovviamente esistono anche distribuzioni di probabilità che non sono né discrete né continue, che sono anche miste, un po' discrete e un po' continue, non posso entrare nei dettagli su questo, ma quello che è importante sottolineare è che le distribuzioni discrete e quelle continue di cui ci stiamo occupando qui non esauriscono l'insieme delle possibili distribuzioni di probabilità, sono soltanto due casi più comuni. Allora, per assegnare una distribuzione discreta abbiamo visto come si fa, no? Lì addirittura abbiamo una rappresentazione del numero allatorio come combinazione lineare di indicatori di eventi, nel caso del numero allatorio continuo non abbiamo una simile rappresentazione ma abbiamo trovato il concetto unificante nell'idea di funzione, nel senso che è una funzione qualunque numero allatorio sia esso discreto, continuo o anche di quegli altri tipi di cui non parleremo è sempre una funzione da omega all'insieme degli eventi in R, l'insieme dei reali. Per assegnare la distribuzione discreta, ho ricordato come si fa, per assegnare una distribuzione continua come abbiamo già visto l'altra volta nel caso semplice della distribuzione uniforme bisogna assegnare la densità di probabilità. Con la densità di probabilità facciamo tutto in sostanza, no? Perché attraverso l'integrale della densità esteso a opportuni sottinsieme di R troviamo le probabilità di qualunque appunto sottinsieme di R che ricordiamo ci rappresenta sempre un evento. Allora adesso passiamo in rassegna a altre distribuzioni. La uniforme era la più semplice, ricordate che lì avevamo detto che se noi vogliamo esprimere un giudizio di ugual grado di fiducia sui valori possibili di questo numero allatorio continuo la condizione P di X uguale a 0 per tutti non basta perché quella è una condizione che caratterizza le distribuzioni continue quindi non è che, avevo detto, non è legata a nessun giudizio di equiprobabilità dire probabilità 0 dappertutto. Se vogliamo una vera equiprobabilità nel senso anche intuitivo della parola dobbiamo prendere la densità costante uguale per tutti, no? Perché è la densità che adesso, per così dire, a livello di grado di fiducia prende il posto della probabilità nel senso che ci dà un'idea se ci credo più o meno a seconda di quanto la densità sia più grande o meno grande in ciascun punto. Questo commento lo faremo ora sulle varie densità che passeremo in rassegna, no? Allora, la prima densità di cui ci occuperemo è quella del numero allatorio con distribuzione beta, no? Cioè, un numero allatorio si dice che ha distribuzione beta quando, dati due parametri positivi, reali positivi, R ed S è considerato un qualunque X di 0,1 quindi vuol dire che il codominio effettivo del numero allatorio con distribuzione beta sarà all'intervallo 0,1 quindi quando scriviamo questo vuol dire che fuori è 0 la espressione analitica è data da questa formula allora abbiamo BRS di X abbiamo gamma di R più S diviso gamma R gamma di S questa è una costante sulla quale tornerò fra un momento adesso guardiamo la forma della funzione del tipo X alla R meno 1 per 1 meno X alla S meno 1 quindi vedete che vale sicuramente se R ed S almeno sono maggiori di 1 vale sicuramente 0 agli estremi dell'intervallo nel punto 0 e nel punto 1 e se invece R e S non sono minori di 1 abbiamo diverse situazioni che vedremo fra poco, no? considerando i vari casi possibili ma intanto una cosa voglio farvi notare subito che se prendo R ed S uguali ad 1 uguali ad 1 sono positivi quindi posso prendere uguali ad 1 qui questi esponenti vengono uguali a 0 questa funzione diventa costante si riduce alla costante gamma se R e S l'ho preso uguale ad 1 gamma di 2 diviso gamma di 1 per gamma di 1 fra poco vedremo che questa funzione vale 1 questo vale 1 perché ho preso l'esponente uguale a 0 quindi si trova che la distribuzione beta restituisce per così dire la distribuzione uniforme su un intervallo 0,1 perché la distribuzione uniforme su un intervallo come sapete, abbiamo visto l'altra volta si prende costante con la costante uguale al reciproco dell'ampiezza dell'intervallo siccome l'intervallo ha ampiezza 1 la distribuzione uniforme su 0,1 è la costante 1 su 0,1 che vale 0 fuori dall'intervallo 0,1 questo sarà più chiaro fra un attimo quando capiremo cos'è questo oggetto qui davanti ma intanto intuitivamente siccome sappiamo che l'integrale della densità deve fare 1 se voi fate l'integrale di questa parte qui ignorate la costante vi verrà in generale una quantità che non è uguale a 1 per così dire viene normalizzata moltiplicandola per questa costante questa cioè è la costante che serve a far rispettare la condizione di normalizzazione della densità perché ricordate normalizzazione vuol dire che la probabilità di omega è 1 dell'evento certo perché l'integrale della densità è uguale a 1 traduce il fatto che omega ha probabilità 1 allora vediamo com'è fatta questa costante gamma che cosa rappresenta naturalmente dicevo che il codominio è questo intervallo quindi è chiaro che l'abr l'ho presa 0 fuori di questo intervallo come abbiamo fatto anche per l'uniforme che avevamo dato una definizione sull'intervallo ab costante e fuori era 0 quindi tutte le distribuzioni continue che non hanno come codominio tutto r ovviamente saranno 0 fuori dalle parti dove sono positive questo è il supporto come si dice fuori sarà 0 la definizione di funzione gamma quella che appare come costante è la seguente se qualcuno forse l'ha incontrata nel corso di metri meno analici per l'ingegneria ma non sono sicuro comunque ne parliamo rapidamente qui è definita così mediante un'integrale c è una costante reale positiva facciamo un'integrale da 0 a più infinito di x elevata a c meno 1 parere alla meno x dx osservate che se questo c non è intero non è un numero naturale questo integrale non è facile da fare questo sembra uno di quegli integraletti da 4 soldi facilissimi da risolvere ma questo è vero solo se c è un numero naturale perché con l'integrazione per parti si arriva facilmente alla risposta ma se c non è naturale ma è reale positivo questo integrale non si fa nel senso che non si trova la primitiva e allora si definisce gamma c in questo modo si può verificare che questa funzione è sommabile cioè l'integrale è finito quindi la definizione è legittima e possiamo trovare subito una proprietà importante di questa gamma cioè l'integrale non lo so risolvere però vi faccio vedere subito che gamma di c più 1 vale questa formula iterativa uguale a c per gamma di c e guardiamolo qui gamma di c più 1 è quella formula scritta con al posto di c c più 1 evidentemente quindi gamma di c più 1 è l'integrale da 0 a più infinito lì c'era scritto x alla c meno 1 quindi x alla c perché ho messo c più 1 per e alla meno x dx proviamo a integrare per parti facciamo un'integrazione allora il fattore finito x alla c per l'integrale del fattore differenziale meno e alla meno x questo integrato da 0 a più infinito meno l'integrale di integrale trovato che siccome era negativo diventa più e alla meno x per il differenziale del fattore finito cioè c x alla c meno 1 chiusa dx chiuso niente da 0 a più infinito ora qui verificate quando mettete gli estremi in integrazione che questo qui va a 0 perché a più infinito ci pensa l'esponenziale e a 0 ci pensa la x quindi rimane questa espressione qui ma questa se la controlliamo mettendo in evidenza la c fuori dell'integrale rimane l'integrale la c l'ho portata fuori di x a c meno 1 e a meno x dx cioè la stessa espressione che avevamo visto prima di gamma di c cioè questo è proprio gamma di c quindi c per gamma scusate è uguale c per gamma di c vedete quindi che con integrazione per parti ci accorgiamo che gamma di c più 1 è uguale a c per gamma di c esattamente quello che c'è scritto lì sul nostro slide alla quale torniamo subito ora questa cosa ci dice questa formula se c è un numero reale positivo niente nel senso che c è questa formula iterativa ce la guardiamo ma se prendiamo in particolare c uguale n dove n è un numero naturale allora la possiamo scrivere gamma n più 1 uguale n fattoriale per gamma di 1 nel senso che applicandola più volte abbiamo gamma di c più 1 uguale c per gamma di c quindi applicando una seconda volta capite che si scende sempre quindi al posto di gamma di c potete mettere c meno 1 per gamma di c meno 1 e così via fino a quando arrivate al valore 1 perché adesso n è naturale quindi si può fare così quindi ottenete n fattoriale per gamma di 1 dall'espressione della funzione gamma vedete subito che gamma di 1 è uguale ad 1 perché bisogna fare quell'integrale quando l'esponente c meno 1 mettete c uguale a 1 quindi viene l'integrale di un'esponenziale da 0 più infinito e fa 1 e quindi abbiamo dimostrato che gamma di n più 1 è uguale a n fattoriale cioè la funzione gamma per così dire estende ai numeri non interi il concetto di fattoriale nel senso che se quando n è intero ritrovo il fattoriale questo in un certo senso lo generalizza a valori positivi però naturalmente non posso chiamarlo fattoriale e lo lascerò indicato con quell'integrale quindi se in particolare consideriamo una distribuzione della famiglia beta quella che stiamo studiando con gli esponenti r ed s interi abbiamo quella costante semplificata la costante moltiplicativa no? allora come ho già detto se r e s sono 1 la distribuzione beta merita la distribuzione uniforme che cosa perché è importante studiare la distribuzione beta? ogni distribuzione di probabilità ha un suo risvolto intuitivo no? rappresenta qualche grado di fiducia in qualche cosa no? ora vediamo un po' la distribuzione beta la distribuzione beta ha codominio 0,1 come abbiamo visto perché vale 0 fuori dall'intervallo 0,1 allora per esempio un modello di fenomeno reale che potrebbe essere rappresentato dalla distribuzione beta potrebbe essere la percentuale di persone nel senso statistico della parola di individui che hanno una certa caratteristica in una certa popolazione facciamo un caso concreto supponete che x la variabile x rappresenta il numero di pezzi difettosi in una lotto di pezzi di vari pezzi in cui possono essere ognuno buono o difettoso se il numero di pezzi è enorme non conviene fare un modello discreto cioè di mettere frazioni tipo 0 ennesimi 1 ennesimo 2 ennesimi 3 ennesimi fino a n ennesimi cioè la percentuale anzi la frazione di pezzi difettosi conviene pensare a un modello continuo specialmente se non conosco il numero totale di pezzi supponete che avete una scatola enorme contenente un numero enorme di oggetti che possono essere buoni o difettosi e non conoscete il numero totale di oggetti quindi il modello più naturale di dire ma qual è la frazione di pezzi difettosi da cosa è espresso è espresso dal numero x tra 0 e 1 numero reale per fare l'approssimazione continua tra 0 e 1 quindi qualunque x tra 0 e 1 rappresenta la percentuale la frazione di pezzi difettosi o se volete la probabilità di estrarre un pezzo difettoso da quella da quella scatola da quell'otto e allora quando voi prendete r uguale x 1 uguale uniforme vuol dire che la vostra opinione sulla distribuzione dei pezzi difettosi nella scatola è la stessa nel senso che voi ritenete che c'è la stessa probabilità che quella scatola contenga nessun pezzo difettoso 1, 2, 3 o tutti difettosi per voi è lo stesso grado di fiducia perché se è uniforme vuol dire che se la densità deve darci questa idea intuitiva che più è grande più ci credo più è piccola e meno ci credo quando la densità è costante vuol dire che voi date la stessa fiducia alla presenza di nessun pezzo difettoso di 1, 2, 3 tutti difettosi cioè è una situazione poco realistica in pratica pensate a una ditta che fornisce questo materiale a un cliente fisso un cliente difficilmente continuerebbe a servirsi da questa ditta se pensasse che c'è la stessa probabilità che i pezzi siano tutti buoni o tutti difettosi o un qualunque numero di pezzi difettosi questo discorso lo vedremo sui vari tipi di distribuzione beta adesso scegliamo r ed s non più uguale a 1 ma nei vari valori possibili nei vari scelte possibili cominciamo per esempio a supporre r ed s entrambe minori di 1 con r minore di s se voi andate a quell'espressione della funzione questo è un esercizio elementare dell'analisi 1 vedere come è fatta che è fatta in questo modo ricordate che c'era x alla r meno 1 1 meno x alla s meno 1 con questa scelta di r ed s gli esponenti sono negativi quindi non è più vero come dicevo prima avendo supposto r ed s maggiore di 1 che si annulla nel punto 0 e nel punto 1 c'ha un asintoto invece nel punto 0 e nel punto 1 perché naturalmente siccome r è minore di s questa funzione non è simmetrica e quindi è un po' storta in questo modo quale potrebbe essere il significato intuitivo il significato intuitivo che qui è una strana opinione abbiamo sulla presenza dei pezzi difettosi perché riteniamo poco probabile diciamo così sempre probabile in senso intuitivo perché qui ricordiamoci che sono distribuzioni continue e quindi la probabilità è sempre 0 poco probabile nel senso di grado di fiducia intuitivo poco probabile che un numero intermedio di pezzi difettosi sia presente nel nostro lotto e invece riteniamo molto probabile o che siano tutti buoni cioè 0 pezzi difettosi o che siano tutti difettosi vedete vengono privilegiati questi due casi estremi ovviamente questo è un discorso puramente matematico di forma della funzione ripeto è un esercizio di analisi 1 verificare che l'andamento è questo in questo caso ma se dobbiamo dargli un'interpretazione di grado di fiducia l'unica possibile è questa credere molto che siano tutti buoni o che siano tutti difettosi e credere poco credere di meno nei valori intermedi e questo per dare un'idea proprio grossolana e rozza del concetto di densità nei vari contesti per esempio della distribuzione beta facciamo un altro caso adesso prendiamo quello che dicevo io all'inizio r sempre asimmetrico cioè r maggiore di s questa volta invece che minore e prendiamo r ed s maggiore di 1 se sono entrambi maggiore di 1 vuol dire che allora gli esponenti ricordate la formula era x alla r-1 1-x alla s-1 a parte la costante quel gamma r più s gamma r gamma s che serviva a normalizzare e quindi questa volta si annulla nel punto 0 si annulla nel punto 1 e c'è un massimo nel punto x con 0 che ora vediamo fra poco qual è la scissa anche questo si calcola con calcoli elementari di analisi 1 qui come sarebbe l'interpretazione intuitiva vuol dire che questa ditta crediamo molto probabile che ci abbia dato una fornitura con un numero di pezzi difettosi intorno a questo valore intermedio un po' più della metà di pezzi difettosi poco probabile riteniamo che siano tutti difettosi come pure riteniamo poco probabile che siano tutti buoni no? vicino a 0 mentre invece per noi è molto probabile che ci sia questo valore intermedio circa del 60% di pezzi difettosi questo sempre per dare la lettura intuitiva esaminiamo altri casi se prendete r-1 s-1 allora in un caso c'è l'asintoto nell'altro c'è lo 0 questo ormai non vi spiego troppo lo potete poi fare da solo come esercizio lo potete vedere sul libro i vari casi come sono studiati comunque sul sito internet trovate poi lo sviluppo dei calcoli relativi ma ripeto non sono difficili perché è uno studio di funzione allora qui cosa vorrebbe dire vuol dire che credo molto che ci siano pochi pezzi difettosi 0 e credo molto poco che siano tutti difettosi ecco questo potrebbe dire che questo grafico rappresenta una fiducia in una ditta che ci ha forniti pezzi crediamo molto nella serietà di questa ditta perché dico così? perché se questa è la rappresentazione del nostro grado di fiducia nella presenza o meno di pezzi difettosi se x vuol dire la percentuale di pezzi difettosi vedete che crediamo molto nel fatto che sia 0 o vicino a 0 la percentuale di pezzi difettosi e man mano che aumenta la percentuale di pezzi difettosi ci crediamo sempre di meno addirittura diamo 0 il valore nel punto 1 cioè che siano tutti difettosi proprio gli diamo densità 0 quindi vedete che questo tipo di funzione è quello che rappresenta la fiducia incondizionata del nostro fornitore se vogliamo continuare a fare questo esempio questa è la situazione contraria adesso prendiamo R maggiore di 1 S minore di 1 questo deve essere un fornitore da bandire dal nostro elenco di ditta a cui rivolgersi perché se noi crediamo in questo modo cioè crediamo che sia pochissimo probabile che ci siano 0 pezzi difettosi e probabilissimo il massimo addirittura c'è un asintoto qui che siano tutti difettosi perché quando diciamo vicino a 1 ricordate che X è la percentuale di pezzi difettosi saremmo folli se continuassimo a servirci da questa ditta questo è un altro caso in cui R ed S sono entrambi minore di 1 però questa volta come prima ho preso R uguale ad S quindi a differenza del caso visto all'inizio qui la funzione diventa simmetrica perché quando R uguale ad S è simmetrica come pure questo è l'altro caso di simmetria però con R ed S maggiore di 1 insomma non sto a farvela lunga è uno studio elementare che si può fare quel punto di massimo che avevamo trovato ecco si può fare il calcolo e viene R meno 1 su R più S meno 2 dipende da questi valori anche qui fate la derivata prima annullate cose naturalmente questo vale se R e S sono particolari maggiori di 1 o minori di 1 poi ci sono dei casi incrociati in cui se sono entrambi minori di 1 questo è un minimo se sono entrambi maggiori di 1 questo è un massimo basta andiate ai grafici di prima avete visto che eravamo il caso del minimo e il caso del massimo poi quegli altri casi invece corrisponde alla monotonia della funzione perché tutti gli altri casi è monotona può essere crescente o decrescente in sostanza qui ho riassunto quello che abbiamo visto nei grafichetti visti prima se ne possono fare anche altri casi studiare in dettaglio ma è importante avere capito l'idea ogni distribuzione di probabilità continua o discreta in particolare oggi parliamo di quelle continue quando diamo una densità non ci limitiamo a prendere la formula matematica della densità e a fare integrali con questa formula per calcolare probabilità ma cerchiamo di capire cosa c'è dietro ho cercato di darvi un'idea intuitiva di una densità di un certo tipo che cosa può significare quindi ora non lo farò sempre questo ma ricordate che la densità ha anche questo risvolto intuitivo di essere una misura del nostro gravo di fiducia nel verificarsi di eventi che comunque hanno probabilità nulla e quindi con la probabilità non riusciamo a esprimerlo poi come tutte le distribuzioni ci possiamo divertire a calcolare la previsione della distribuzione beta o delle distribuzioni beta ho già accennato altre volte a questo plurale perché siccome dipende dai due parametri r e s e già le figure che avete visto avete visto che erano tante diverse distribuzioni quindi abbiamo infinito a due distribuzioni beta questo è importante perché il nostro grado di fiducia può essere modellato sulle conoscenze che abbiamo scegliendo opportunamente r e s esattamente come abbiamo fatto prima avete visto che a seconda se r e s erano maggiori minori di uno uno maggiore l'altro minore eccetera espremevamo diversi gradi di fiducia diciamo così nella serietà della ditta fornitrice se facciamo l'esempio dei pezzi difettosi e un calcolo elementare facendo integrale della previsione si calcola facilmente anche la previsione del quadrato perché la previsione del quadrato perché ci serve per la varianza perché ricordate che un modo per calcolare la varianza è di fare la previsione del quadrato meno il quadrato della previsione quindi facendo questo calcoletto viene che la varianza ha questa espressione scrivo soltanto per memoria e questo sarebbe sempre molto interessante se faceste voi come esercizio questo calcolo passiamo all'altra distribuzione distribuzione esponenziale di questa oggi parlo brevemente nel senso che vi do come prima l'espressione analitica il grafico la previsione ma poi ci torneremo su una lezione apposita dedicata alla teoria dell'affidabilità in cui la distribuzione esponenziale gioca un ruolo fondamentale allora questa dipende da un parametro lambda positivo ed è fatta così per x maggiore di 0 è fatta da questa formula lambda è a meno lambda x per x maggiore di 0 ed è 0 fuori per x minore o uguale di 0 vedete che si chiama distribuzione esponenziale per la sua forma analitica è un esponenziale naturalmente tutte queste densità va sempre verificato che l'integrale è uguale a 1 sono state scelte bene ovviamente le costanti questo integrale fa ovviamente 1 da 0 a più infinito dovete farlo perché vedete che per x minore di 0 la densità è nulla quindi il suo grafico è evidentemente questo vedete che vale 0 per x negativi ed ha un andamento esponenziale decrescente esponenziale negativo per x positivo e quest'area qui è uguale ad 1 come sapete anche se l'intervallo è illimitato l'integrale improprio si chiamerebbe ma questi sono di quelli convergenti l'integrale fa 1 perché l'esponenziale è abbastanza infinitesima diciamo così per x che tende all'infinito da rendere finita quest'area quindi questo è il grafico dell'esponenziale ripeto qui se vogliamo sempre interpretarlo come grado di fiducia ovviamente diremo che crediamo di più ai valori piccoli questi qui vicino a 0 e man mano che si va avanti ci crediamo sempre di meno ma questo ci torneremo ripeto meglio quando parleremo di affidabilità come tutte le distribuzioni possiamo calcolarci la previsione vedete che ricordiamoci la definizione di previsione per distribuzioni continue come facevamo prendevamo il valore generico x lo moltiplichiamo per la densità e facevamo l'integrale questa era la densità e questo è il valore x l'integrale non si fa da meno infinito a più infinito perché si fa o meglio ma il pezzo da meno infinito a 0 da 0 perché la densità vale 0 quindi rimane solo in piedi la parte da 0 a più infinito fate questo integrale per parti non è difficile qui è indicato e viene che la previsione della distribuzione esponenziale è 1 sull'anda cioè è l'inverso del parametro questo ci torneremo sarà collegato ai tempi d'attesa fino al primo guasto la varianza si può calcolare questa volta ancora facendo la previsione del quadrato e facendo una sola operazione sottragli il quadrato della previsione troviamo che la varianza è uguale a 1 sull'anda quadro quindi lo scarto standard che è la radice della varianza qui abbiamo questa peculiarità che lo scarto standard è uguale alla previsione un'altra importante distribuzione è la distribuzione gamma questa pure dipende da due parametri l'anda e c entrambi positivi ed è fatta così se x è positivo è data da questa formula ormai non devo spiegare più chi è questo denominatore gamma di c perché è il valore nel punto c di quella funzione gamma non confondiamo la distribuzione gamma con la funzione gamma la funzione gamma è indicata con la lettera gamma la distribuzione gamma è indicata con la lettera g e dipende dai due parametri di c e l'anda ed è fatta in questo modo se x è positivo vale 0 altrove anche questa esprime diversi gradi di fiducia perché dipende da come scegliete i parametri l'anda e c per esempio se prendete c uguale 1 c uguale 1 perché c deve essere positivo si prende anche uguale 1 scoprite che riscopriamo la distribuzione esponenziale cioè la distribuzione esponenziale vista poco fa è una particolare gamma se mettete c uguale 1 questo esponente fa 0 quindi questa x non c'è più qui c'è l'anda gamma di 1 abbiamo stabilito che era 1 ricordate che era il fattoriale quindi fa 1 perché sarebbe 0 fattoriale e quindi viene g c 1 uguale l'anda questo l'anda qui senza la c perché è uguale a 1 questo non c'è più e alla meno l'anda x esattamente la formula vista poco fa per l'esponenziale quindi la distribuzione gamma generalizza la esponenziale perché ripeto per l'anda uguale scusate per c uguale 1 mi ridà l'esponenziale poi naturalmente al variare di c maggiore di 1 minore di 1 e al variare di landa ottenete tante possibili forme di questa distribuzione e quindi tanti possibili modi di esprimere il vostro grado di fiducia sull'esperimento sul fenomeno aleatorio che state studiando perché avere a disposizione tante possibili distribuzioni significa avere a disposizione tanti possibili modi di esprimere la vostra opinione diciamo così sull'andamento del fenomeno di rappresentarlo in maniera probabilistica dicevo che è uguale a 0 per x minore o uguale di 0 e qui l'integrale ovviamente fa 1 perché tutte le densità devono avere l'integrale 1 anche questo è un calcolo non difficile che vi è sorto a fare da soli se noi fissiamo l'anda per esempio dicevo prima e prendiamo c tra 0 ed 1 vediamo che la distribuzione di gamma è decrescente se c è maggiore di 1 c'è un massimo nel punto c meno 1 sull'anda queste cose ve le do come notizie ma ripeto sono sempre esercizi di analisi 1 di derivata di fare la derivata trovare il punto di massimo dove la derivata è negativa è decrescente e così via guardiamo direttamente i grafici di queste due situazioni se c è minore di 1 siccome l'esponente ricordate che c'era x alla c meno 1 è negativo allora vuol dire che nell'intorno di 0 c'è un asintoto verticale e poi siccome c'è quell'esponenziale a fattore all'infinito la manda a 0 io lo sto dicendo in maniera molto rozza e intuitiva ma sapete bene queste cose possono essere delle rese rigorose facendo le solite operazioni che si fa per lo studio di funzioni quindi qui vi do solo due esempi quando c è minore di 1 qualunque sia l'anda e quando c è maggiore di 1 invece l'esponente della x è positivo e quindi x quindi la gamma si annulla dal punto 0 ed è fatto in questo modo asimmetrico e poi tende a 0 sempre per x e quindi si tende all'infinito anche questo è un modo di esprime e qui vorrebbe dire che nel vostro fenomeno voi ritenete molto probabili i valori intorno a questo x con 0 al punto di massimo ritenete poco probabili i valori vicini a 0 e anche quelli molto grandi qui invece la situazione è invertita qui in questo qui dovreste usare una gamma con c minore di 1 quando avete un fenomeno in cui ritenete molto probabili valori piccoli per come è fatta la funzione molto probabili ricordate sempre nel senso intuitivo perché la probabilità è sempre 0 perché sono distribuzioni continue anche qui possiamo calcolare la previsione vnc sull'anda possiamo calcolare la varianza vnc sull'anda quadro adesso studiamo un concetto che riguarda un numero relatorio arbitrario il concetto di funzione di ripartizione la funzione di ripartizione è un altro strumento per così dire che ci consente di gestire le distribuzioni di probabilità perché dico strumento perché quali sono gli strumenti che abbiamo usato fino adesso per le distribuzioni discrete lo strumento era la probabilità le probabilità positive dei valori possibili perché le distribuzioni discrete i valori possibili avevano probabilità positiva ricordatelo questa eventualmente numerabile il tempo d'attesa fino al primo anzi più che tempo il numero di prove fino alla prima uscita di testa per esempio quella che si chiamava distribuzione geometrica avevamo una serie convergente a termini positivi ovviamente a termini decrescenti se una serie non converge e avevamo i valori possibili con probabilità positive nel caso finito ovviamente a maggior ragione e quindi dando i valori possibili le probabilità questo strumento le probabilità era quello che ci permetteva di gestire le distribuzioni discrete per le distribuzioni continue lo strumento che abbiamo inventato era la densità datemi la densità e io vi faccio tutto sulla distribuzione continua perché faccio l'integrale sugli insiemi dei quali mi interessa sugli eventi dei quali mi interessa gli eventi rappresentati da insiemi dei quali mi interessa la probabilità faccio l'integrale e vi do tutte le probabilità che volete relativa alla distribuzione continua quindi abbiamo già due strumenti indipendenti e diversi la densità nel secondo caso le probabilità positive nel primo caso se vogliamo uno strumento unificante per così dire che valga indipendentemente dal tipo di distribuzione considerata continua discreta e persino quelle del quale non parliamo perché vi ho detto che ce ne sono anche altre questo strumento è la funzione di ripartizione la funzione di ripartizione infatti come vedete qui sulla slide si riferisce a un numero relatorio x arbitrario e come è fatta come è definita la funzione di ripartizione è definita così è la funzione f maiuscolo di x che dà la probabilità che x sia minore o uguale di un qualunque x fissato qualunque fissato in r quindi è definita naturalmente su tutto r questa funzione di ripartizione vogliamo vedere su qualche esempio prima di andare avanti con le slide vediamo su qualche esempio sporcandoci le mani con i nostri fogli di carta che spesso aiutano perché obbligano il docente ad andare più lento perché deve scrivere e quindi il discente segue meglio allora abbiamo detto che la funzione di ripartizione si definisce come la probabilità che il nostro numero relatorio x maiuscolo sia minore o uguale di un qualunque x fissato allora si vede subito che cosa rappresenta nel caso continuo perché se il x è dato da un numeratore continuo vuol dire che io ho una densità di probabilità una certa funzione non negativa che dipenderà dal tipo di distribuzione fisso un valore x piccolo e la probabilità di questo evento cioè che x grande sia minore di x piccolo vuol dire in base al concetto di densità questa è la f piccolo la densità vuol dire l'integrale da meno infinito ad x di questa funzione per definizione quindi vuol dire l'area che sta alla sinistra di x questa rappresenta la probabilità di questo evento nel caso continuo perché nel caso continuo ripeto questa è l'integrale la probabilità che x appartenga ad a nel caso continuo che cos'è l'integrale è la densità qui a sarebbe la semiretta meno infinito x perché quando dico x minore o uguale di x vuol dire che x deve appartenere alla semiretta meno infinito x questo è il nostro a quindi l'integrale è l'integrale da meno infinito ad x della densità f di y di y si usa come al solito cambiare il nome della variabile non usare lo stesso dell'indice superiore allora qui vedete che questa espressione ci consente anche di trovare un legame interessante fra funzione di ripartizione e densità perché se la f grande fosse derivabile non sto qui a ricordarvi quello che sapete dai corsi di matematica 1 e 2 le condizioni di derivabilità se fosse derivabile per il teorema di derivazione rispetto all'estremo superiore dell'integrale qui viene che f primo di x è uguale ad f piccolo di x cioè c'è questo nel caso delle distribuzioni continue c'è questo importante legame fra funzione di ripartizione e densità nel senso che la derivata della funzione di ripartizione è proprio la densità quindi se a me viene data la funzione di ripartizione invece prima adesso abbiamo assegnato le distribuzioni abbiamo detto prima le discrete mi date le probabilità dei valori possibili le continue mi date la densità e quindi il codominio anche no dove la densità è zero è fuori del codominio se invece mi date la funzione di ripartizione io guardo è derivabile è continua ah sì allora faccio la derivata questa mi dà la densità e scopro che si riferisce a una distribuzione continua vediamo un po' meglio questo concetto facendo l'esempio adesso di una distribuzione discreta come è fatta la funzione di ripartizione adesso supponiamo di avere una distribuzione discreta facciamone una facile il dado quindi qui abbiamo i valori possibili che sono 1 2 3 4 5 e 6 questi sono i valori possibili del nostro x il numero relatorio noi dobbiamo calcolarci la probabilità che x sia minore o uguale di x piccolo qualunque sia x reale no qui c'è il numero 0 allora cominciamo a camminare sull'asse reale con questa x piccola e vediamo che succede no supponiamo di prendere x qua negativo qual è la probabilità che x sia minore o uguale di x cioè qual è la probabilità che il numero ottenuto lanciando il dado venga minore di x evidentemente 0 è impossibile lanciando il dado non può venire un numero negativo 0 camminiamo ancora spostiamoci qua tra 0 e 1 qual è la probabilità che lanciando il dado viene un numero minore di 1 è ancora 0 perché non può lanciando il dado non si può ottenere un numero minore di 1 quindi vedete che questa funzione la f grande di x cioè la probabilità che x grande sia minore o uguale di x piccolo che x grande sia minore o uguale di x piccolo questa funzione fino almeno qui dove abbiamo controllato vale 0 e facciamo con un altro colore verde perché poi se faccio rosso il regista mi rimprovera perché si vede poco la verde fino a qui è 0 vedete che finché arrivate prima di 1 diciamo un'anticchia prima di 1 poco prima di 1 questa continua ad essere 0 perché la probabilità che il dado lanciato mi dia un numero minore di 1 è sempre 0 è impossibile appena però arriva ad 1 la probabilità che x sia minore o uguale di 1 questa volta coincide con la probabilità che x sia uguale ad 1 lanciando il dado minore di 1 non può venire uguale sì quindi è un sesto è la probabilità di avere allora qui in questo punto la funzione vale un sesto quindi vedete che salta prima era 0 salta continuiamo tra 1 e 2 qual è la probabilità che la funzione assuma un valore compreso fra 1 e 2 vorrebbe dire la probabilità che x sia minore per esempio di 3 mezzi minore o uguale di 3 mezzi è la stessa di prima il dado prima di 2 non ci sono più valori possibili quindi la probabilità che sia minore o uguale di 3 mezzi è come la probabilità che sia minore o uguale di 2 perché tra 1 e 3 mezzi non ci sono valori possibili per il dato quindi è costante ed è costante fino a un po' prima di 2 perché la probabilità che sia minore o uguale di un numero un po' più piccolo di 2 è sempre un sesto perché numeri un po' più piccoli di 2 ci sta solo 1 quindi è un sesto appena però tocchiamo il punto 2 tac è un altro salto uguale a un sesto perché la probabilità adesso che x sia minore o uguale di 2 questa volta è 2 sesti cioè un terzo no? perché minore o uguale di 2 vuol dire sia uguale a 1 sia uguale a 2 penso che non debba andare avanti ormai avete capito questa funzione continua ad andare avanti a scalini costante fino a 3 a 3 salta un altro lato di un sesto non posso continuare perché ho finito il foglio ma insomma avete capito che questa salta di valori un sesto a ogni valore possibile e nel punto 6 raggiunge il punto 1 il massimo della funzione perché la probabilità che x sia minore o uguale di 6 è 1 è l'evento certo qual è la probabilità che lanciando un dato si ottiene un numero minore o uguale di 6 è certo perché viene 1 2 o 3 o 4 o 5 o 6 quindi la funzione da 6 in poi è costante uguale ad 1 continua così sempre uguale ad 1 la funzione di ripartizione allora vedete che su questi due esempi abbiamo visto che a seconda che non vi do la dimostrazione generale adesso vi do le proprietà intuitive della funzione di ripartizione a seconda che sia discreto o continuo che non va letto che sono tutti i casi possibili perché vi ho ricordato che ci sono anche distribuzioni di altri tipi a seconda che dei due tipi che noi consideriamo cioè discrete o continue si abbia l'uno o l'altro abbiamo una funzione a scalini con salti nei punti dove ci sono i valori possibili e i salti sono uguali alle probabilità vedete che in ogni punto salta di una quantità uguale alla probabilità di quel valore mentre invece nel caso continuo non c'è questo fenomeno adesso vediamo meglio sulle slide cosa si può dire in generale e nel caso continuo allora stavo dicendo questa è la definizione di funzione di ripartizione è la probabilità che x è minore o uguale di x e quindi per dirla sempre in termini intuitivi è la probabilità che sta alla sinistra del punto x no? abbiamo visto poco fa che se il numero relatore è continuo ed f è derivabile questo succede quasi sempre basta che la densità sia continua a meno di eventuali numero finito di punti quindi questo succede quasi sempre allora abbiamo detto che la derivata della funzione di ripartizione mi dà la densità no? che abbiamo già discusso con f densità di probabilità se x è discreto naturalmente io ho fatto un esempio discreto finito no? del dato e naturalmente se invece facessi il caso di un discreto numerabile per poter fare quei salti e quella discussione che abbiamo visto poco fa devo supporre la sigma di attività no? perché sapete quando c'è il caso numerabile abbiamo discusso l'altra volta la probabilità può essere o no sigma additiva supponiamo sigma additiva per semplicità cioè supponiamo in questo contesto che la proprietà additiva della probabilità quella che vale per un insieme finito di eventi a due a due incompatibili si estende anche a un insieme numerabile allora la f viene fuori una funzione a scalini nel caso finito questa frase qui è inutile no? l'abbiamo appena verificata che è una funzione a scalini quindi fate quello come riferimento per capire che è discontinua nei valori possibili con k di x l'abbiamo appena visto nel caso del dato si estende in generale ed è costante fra due valori successivi esattamente quello che abbiamo esaminato sul foglio di carta e i salti di questa discontinuità sono proprio uguali alle probabilità di questi valori possibili quindi vedete che è uno strumento la funzione di ripartizione per descrivere distribuzioni di probabilità perché se c'è una distribuzione continua ma è stata data mediante la funzione di ripartizione io faccio la derivata e trovo la densità se c'è una discreta e mi è stata data mediante la funzione di ripartizione vado a guardare dove stanno i salti e ritrovo i valori possibili con rispettiva probabilità quindi è uno strumento unificante che mi fa ritrovare anche i due strumenti diciamo così precedenti quelli peculiari dei due tipi di distribuzione discrete e continua ecco questo per esempio è la funzione di ripartizione relativa a un evento quel semplicissimo numero relatorio discreto che è l'evento l'evento vedete assume il valore 0 con probabilità p con valore scusate il valore 0 è quando l'evento è falso quindi con probabilità 1-p il valore 1 con probabilità p allora vedete che prima di 0 la funzione di ripartizione è nulla perché la probabilità che l'indicatore dell'evento assuma valori negativi è 0 nel punto 0 c'è un salto perché qual è la probabilità che il numero relatorio indicatore assuma valori minori o uguali di 0 è la probabilità che assuma valori uguali a 0 cioè che sia falso quindi 1-p vedete che c'è un salto 1-p poi è costante fino ad 1 qual è la probabilità che assume il valore minore o uguale di 1 è certo perché il valore minore o uguale di 1 è 0-1 quindi fa l'ultimo salto questo segmento è alto p quindi 1-p più p fa 1 e vedete che da 1 in poi è costantemente uguale ad 1 quindi in generale abbiamo questo fatto che la funzione di ripartizione è una funzione non decrescente se x1 è minore o uguale di x2 f di x1 è minore o uguale di x2 l'abbiamo visto nei due casi considerati ma è una ovvia conseguenza di questa probabilità l'evento x è minore o uguale di x1 implica l'evento x è minore o uguale di x2 se x1 è minore o di x2 se vale la prima vale anche la seconda ha maggior ragione quindi per la monotonia della probabilità la probabilità di questo evento è minore o uguale della probabilità di questo ma la probabilità di questo evento per definizione è f di x1 la probabilità di questo evento per definizione è f di x2 quindi abbiamo una probabilità generale della funzione di ripartizione che è sempre una funzione monotona non decrescente poi questo ci consente di calcolare la probabilità di qualunque intervallo perché se f di x1 rappresenta la probabilità che sta alla sinistra di x1 f di x2 quella che sta alla sinistra di x2 in particolare f di b è la probabilità alla sinistra di b f di a la probabilità alla sinistra di a se fate la differenza trovate la probabilità dell'intervallo dell'intervallo a b e in particolare come abbiamo visto anche negli esempi è asintoticamente uguale a 0 per x che tende all'infinito ed è asintoticamente uguale a 0 per x che tende al più infinito per questo vorrebbe dire la probabilità che x sia minore o uguale di più infinito se vogliamo leggere l'intuitivo questo vuol dire tutta la retta quindi l'evento certo e quindi vale 1 e dualmente vale 0 a meno infinito se voi fate come esempio da soli sul sito internet trovate la discussione di questo esempio la distribuzione esponenziale un esempio di funzione di ripartizione nel caso continuo e vedete che viene una funzione monotona non decrescente appunto che rispetta quelle proprietà generali come ho appena enunciato arrivederci grazie Grazie a tutti.